La parte che non mi ha fatto male per niente, poi protegge, ecco, sono contenta per quello, per essere protetta. Sì, l'ho fatto ieri mattina, mi sento bene, benissimo. Ho sentito un leggero calore nella parte del deltoide dove ho fatto la puntura. L'ansia mia era quella di affrettare i tempi, sto tranquillo per me, ma devo stare attento anche agli altri perché potrei essere un portatore sano. Oggi ho accompagnato mia moglie che anche lei è contenta di averlo fatto, che lo sta facendo. Sono contento per lei che finalmente potrà raggiungere una certa tranquillità e sono fiducioso. Io ho 90 anni e speriamo di raggiungere i 100. Purtroppo, stando in classe con molti bambini e a volte anche 24 e in compresenza con colleghe, fare il vaccino secondo me è la cosa migliore per cercare di tutelarci sia noi che gli altri. È l'unica soluzione per poter contrastare questo virus. È necessario che tutti se ne rendano conto che è necessario vaccinarsi. Sicuramente sì, a tutti e a tutti, anche a voi ragazzi, perché non è vero che a voi non vi prenda. C'è chi non ci crede, qui ci sono milioni di morti e milioni e milioni di infettati in tutto il mondo, non è solo in Italia o a Roma. Il virus non finisce mai se non ci vacciniamo tutti. Tutti noi italiani, europei e tutto il mondo.